Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei mezzi speciali. Oggi scopriremo tutti i segreti del laboratorio mobile più avanzato dei Vigili del Fuoco. Come vedete è un mezzo semplicemente gigantesco ed è unico a livello nazionale. In Italia c'è solo lui ed è in dotazione al nucleo NBCR di Milano, quella divisione iper specializzata dei Vigili del Fuoco che interviene durante le emergenze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. Una vera unità mobile di analisi per scovare se nell'aria o nel terreno ci sono state contaminazioni quindi molto molto pericolose per gli esseri umani. Fuori è un motorhome come quelli che vediamo parcheggiati durante i weekend della Formula 1 o della MotoGP, una bella motrice Iveco Stralis 480 e un semirimorchio preparato dagli specialisti della Tomasini. Fuori di fatto ha poco di speciale. Le sue vere particolarità e tutti i suoi segreti si nascondono all'interno dove è impossibile salire se non si è un Vigile del Fuoco del nucleo NBCR o se non si è approdati in una puntata dei mezzi speciali e quindi, come sempre, io mi porto con me. Questo mezzo incredibile che tutto il mondo ci invidia, sono venuti anche a studiarlo, pensate, in Italia, onore all'ingegno dei Vigili del Fuoco italiani, è diviso in due parti. Qui siamo nella prima metà. In questa zona stanno i funzionari direttivi dei Vigili del Fuoco oppure i medici, perché ci sono anche dei Vigili del Fuoco che sì, sono anche dei dottori nel frattempo. Qui vengono ospitati anche membri di altre forze, se durante l'operazione di emergenza di salvataggio si sta operando in modalità interforze. Anche il prefetto, in case eccezionali, viene ospitato da questo lato. Le due metà sono assolutamente indipendenti, autonome, ma soprattutto sigillate. Non ci deve essere alcun contatto fisico tra queste due metà. Intanto mi hanno preparato su questo scaffale tutta una serie di attrezzature super specialistiche che ci faranno capire qual è il livello di estrema professionalità raggiunto dal nucleo NBCR negli ultimi anni. Sono attrezzature tutte funzionali allo scopo per cui viene dislocato questo mezzo in situazioni di emergenza. Troviamo il classico respiratore. Questo per la verità è quello in dotazione Vigili del Fuoco in generale, c'è anche sul classico camion dei pompieri. Da qui ci si attacca l'autoprotettore, eccolo qua. Una specie di zainetto che però sorregge una bombola contenente aria respirabile fresca. È fondamentale indossarla per esempio in presenza di fumo o di aria contaminata, se non radioattiva. A proposito di radiazioni, qui iniziamo a entrare un po' nel vivo. Guardate, qui c'è una maschera filtro, un po' come quella che magari ci ritroviamo nei film d'azione. In realtà esiste davvero e ha uno scopo ben preciso e fondamentale. Si chiama così, il nome ci aiuta, come sempre, perché viene applicato un filtro che però di volta in volta è diverso. Cioè si mette il filtro in base alla sostanza tossica che si è diffusa nell'aria. Qui ci indicano reactor, significa che questo filtro è in grado di bloccare polveri radioattive oppure anche altre sostanze molto nocive per l'uomo, come per esempio l'ammoniaca. Ma come fanno i vigili del fuoco a capire che filtro montare? E quindi a sapere qual è la sostanza che si è diffusa nell'aria tossica? Hanno una serie di strumenti, alcuni più classici, altri sempre più avanzati. In caso di un'emergenza nucleare, biologica, chimica o radiologica, la prima cosa da fare è utilizzare una fialetta colorimetrica. Sono contenute tutte in questa speciale valigetta e si dividono in base a famiglie di sostanze. Si prende la fiala, si va proprio per tentativi, ovviamente i vigili del fuoco in base alla loro esperienza magari guardando e studiando la situazione riescono già ad avere delle ipotesi su quali possano essere le sostanze che si sono diffuse e iniziano a mettere le fialette dentro questa pompa che aspira dell'aria. A questo punto le fialette, che contengono una serie di reagenti differenti, ci restituiranno un colore. C'è poi una leggenda, ovviamente io la sbircio ma i vigili del fuoco sanno a memoria interpretare l'esito del test. In base al colore che ci viene fuori noi sappiamo qual è la sostanza che si è diffusa nell'aria. Per esempio componenti aromatici, componenti della benzina, ossidi di carbonio, di clorometano, sostanze terrificanti. In base poi alle sostanze che vengono identificate allora si utilizzeranno i filtri e le protezioni idonee ad affrontare questa nuvola tossica. In alcuni casi, per esempio, potrebbe essere utile, se non fondamentale, indossare anche queste tute protettive di tipo 3 che bloccano, stoppano polveri o liquidi altamente tossici. Ovviamente sempre in abbinamento al nostro autoprotettore, che è un po' l'angelo custode dei vigili del fuoco. Ci sono poi altri strumenti super sofisticati, ognuno dei quali ha un valore inestimabile e uno scopo operativo ben preciso, come questo siringone. In realtà il nome tecnico è PID e serve a identificare i VOC, cioè i composti organici dispersi nell'etere. Lo schermino ci dirà poi qual è la concentrazione di questi vapori altamente infiammabili in ppm, in parti per milione. È fondamentale da utilizzare perché magari dobbiamo entrare in un edificio, se è per vaso di vapori infiammabili, i vigili del fuoco devono prendere tutta una serie di precauzioni. Qui invece c'è questo Game Boy, lo chiamerò io. In realtà ha un nome tecnico molto più preciso e ha anche un valore ben diverso. Si chiama Multigas e di fatto è un esplosimetro, uno strumento quindi in grado di misurare qual è la percentuale di ossigeno presente nell'aria ed eventualmente qual è la percentuale di gas tossici che si sono liberati nell'aria, per esempio monossido di carbonio, pericolosissimo per l'uomo anche perché è in odore, oppure l'anidride solforosa. Ma soprattutto è in grado di segnalarci l'IE, il limite inferiore di esplosività, cioè un limite al di là del quale siamo a rischio scoppio perché siamo per esempio immersi in una nuvola di metano o di GPL. Il parametro che si prende in analisi in questo caso è l'n pentano, cioè un parametro relativo a un gas che ha un bassissimo limite di scoppio. Se andiamo oltre sono guai per noi comuni moltali, ma non per i vigili del fuoco che ovviamente sono super preparati ad affrontare anche queste situazioni assolutamente al limite. Una delle situazioni più gravi, critiche in cui devono intervenire i vigili del fuoco è quella in cui ci sono dispersioni di radiazioni. Se c'è questo sospetto bisogna usare prima di tutto un dosimetro per radiazioni, proprio come questo giallo, sembra un po' il Tamagotchi, ma in realtà è uno strumento salvavita. Questo radiametro è in grado di identificare le radiazioni di tipo gamma, che sono comunque quelle più pericolose, perché altamente ionizzanti sono dei fotoni, si diffondono molto velocemente nell'aria e sono molto difficili da intercettare, da percepire anche per gli strumenti. In ogni caso si può avere una strumentazione ancora più sofisticata e quindi ancora più costosa. Questo strumento si chiama FH40. Se lo utilizziamo in questa maniera, libero da qualsiasi altro apparato, anche lui ci dà la misurazione delle radiazioni gamma. Ma se attacchiamo questa, che sembra la cornetta del telefono della SIP che aveva la mia cara nonna Rosina, in realtà abbiamo uno strumento potentissimo. Prima di tutto questa si chiama sonda Pancake o Gagermuller, giusto per dare onore della tecnica agli strumenti. Con questo apparato io a questo punto sono in grado di detectare, di andare a individuare anche le radiazioni di tipo alfa o beta, quindi quelle corpuscolari. E qui, signori miei, scusate, ma ho trovato la pistola dei Ghostbuster, perché non ditemi che non è identica. Detto questo, in realtà è una sofisticatissima termocamera. Valore di mercato? Praticamente una Fiat Panda, quindi andiamoci piano. Lo dice il nome a che cosa serve? Va a individuare la temperatura. Basta puntarla verso l'ambiente di cui vogliamo conoscere i gradi. Ci restituirà a questo punto un'immagine cromatica che in base alla differenza di colori ci fa capire cosa abbiamo là dentro in termini di calore. Quando viene utilizzata? Beh, banalmente se c'è un ambiente permeato di fumo dove non si vede nulla, non vediamo con gli occhi e quindi la termocamera ci dice, ehi, attenzione, guarda, vigili del fuoco, che al di là di questa colte di fumo ci sono anche delle fiamme a una temperatura molto elevata, quindi state attenti. In realtà il nucleo NBCR la utilizza a fondo anche nel caso di incidenti che coinvolgano mezzi, veicoli ADR, che sono i miei amati camion, cisterna di solito, che trasportano materiali pericolosi come per esempio il GPL o il gas metano liquido. In questi casi immaginiamo che c'è una cisterna magari ribaltata sulla sede stradale, i vigili del fuoco arrivano, puntano subito la termocamera sulla cisterna per capire dov'è il livello del liquido e dov'è il livello del gas contenuto nel serbatoio. Ovviamente il gas e il liquido hanno una temperatura differente e quindi la termocamera riesce a individuare questa differenza e a dire ai vigili del fuoco, occhio, che questa cisterna di GPL per esempio è piena all'80% di gas di petrolio liquefatto e quindi il travaso che poi deve essere effettuato, cioè i vigili del fuoco portano una cisterna vuota dove poi travasano il GPL del mezzo ADR incidentato, sarà molto lungo, molto rischioso e molto delicato. Ed eccoci nella seconda metà speculare del laboratorio mobile. In questa zona stanno i tecnici di laboratorio addestrati ad analizzare agenti patogeni come per esempio possono essere virus o batteri. Anche loro sono pensate all'interno dei vigili del fuoco, quindi è un corpo che ha veramente una specializzazione, una varietà di professionalità, devo dire infinita e sempre sorprendente. Tutto è isolato rispetto all'altra metà. Come fanno a parlarsi per esempio i medici con i tecnici che stanno da questo lato? Beh attraverso la tecnologia. Ci sono degli schermi e quindi in tempo reale i due reparti, le due squadre si possono vedere ma ovviamente si possono anche parlare e sentire. Nel caso in cui nell'ambiente esterno di emergenza in cui si è piazzato il laboratorio si siano rinvenuti dei campioni sospetti, questi vengono portati a bordo e mandati in questa zona del camion attraverso questa pass box. Un elemento di collegamento sicuro perché ovviamente qui il tecnico apre soltanto quando gli dà il medico ha chiuso. A questo punto il nostro campione si prepara a farsi un tuffo e un bel lavaggio in lavatrice con centrifuga. In realtà questo cestello che si effettivamente assomiglia alla candy che avete in casa è un autoclave che porta i campioni all'interno a una temperatura di 120 gradi e questo permette di rendere inerte un'eventuale carica batterica o virale del campione preservandone però al tempo stesso il dna in modo che poi possa essere analizzato nella prossima stazione. Il campione attraverso sempre la nostra pass box finisce qui in quella che si chiama glove box. Il nome ci aiuta, è un'enorme scatola con i guanti. Sapete che nel mondo anglosassone non sono molto famosi per essere originali nel trovare i nomi alle cose. In ogni caso questa glove box è un apparato altamente sofisticato perché è in grado di ottenere una depressione al suo interno. Questo è fondamentale in modo che qualsiasi sostanza ivi contenuta non possa uscire fuori e contaminare l'ambiente. Qui i tecnici di laboratorio eseguono una serie di lavaggi e di procedure determinate da una serie di protocolli ben definiti per avere poi l'elemento da analizzare e il dna da studiare su una piastra che sia ben leggibile dalla macchina successiva. Il nostro campione che può essere ricavato attraverso per esempio un tampone molecolare. Questo laboratorio mobile ha dato una mano concreta e fondamentale durante l'emergenza covid-19 per esempio finisce poi in questa macchina che si chiama pcr, un gioiello della tecnologia biomedicale che permette di replicare il dna individuato e renderlo così più evidente e digitalmente interpretabile. A questo punto il medico competente potrà vedere la sequenza del dna identificata dalla macchina e capire, per esempio, la positività o meno di un tampone oppure la famiglia di virus con cui siamo entrati in contatto. Ma non è finita qui perché questo mezzo riesce a fare cose ancora più strabilianti e ce lo fa capire anche con dei loghi particolari. Come vedete qui ci spiega che tutte queste minacce potenzialmente letali per l'uomo possono essere individuate da questo mezzo anche dall'alto. Prima di tutto attraverso, guardate, un drone ma mica come quello che avete a casa voi per riprendervi quando andate in bicicletta. Qui c'è della vera sostanza e tanta tecnologia. Il drone infatti quando si eleva fuoriesce da un'apposita botola sul tetto del mezzo va a un'altezza prestabilita ma è sempre assolutamente vincolato al camion dei vigili del fuoco. In questo modo può essere costantemente alimentato e quindi può volare potenzialmente per sempre. In questa maniera riesce a restituire un'immagine costante agli operatori e vigili del fuoco a terra. C'è un capannone che sta andando a fuoco, il drone da sopra con delle termocamere, vede per esempio dove sono le fiamme e dà informazioni utili alla squadra operativa. In ogni caso c'è anche un drone supplementare perché se quello in verticale non dovesse bastare ne spediscono un altro in orizzontale, in questo caso non vincolato, che aiuta ad avere un'immagine completa del teatro operativo. Ma se tutto questo non dovesse ancora bastare può arrivare a scomodare, guardate, i satelliti che girano in orbita attorno al pianeta terra. Il camion può mettersi in contatto con un satellite e ricevere tutta una serie di informazioni molto importanti. Un esempio c'è stato un terremoto, si può fare un incrocio di dati che ci fa capire qual'era la situazione preesistente e quella attuale e quindi confrontando i dati capire quanti e quali edifici sono crollati. Non è un caso se un sistema così fantascientifico sia stato sviluppato dai vigili del fuoco insieme all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Un mezzo veramente universale. Ma questo gigante rosso riesce a fare ancora di più con una tecnologia che mi ha lasciato letteralmente senza fiato. Sì perché in caso di necessità si può aprire una botola segreta sul tetto che lascia fuori uscire un sistema di tele rilevamento che si basa su una tecnologia con matrice sul piano focale. Sostanzialmente sfrutta gli infrarossi per individuare a chilometri e chilometri di distanza la presenza di eventuali nubi pericolose che potrebbero contenere gas tossici. Una tecnologia fantasmagorica che però è stata utilizzata per davvero anche in occasioni di grandi eventi recenti come il G7 oppure una visita papale. Giusto per non farsi mancare niente poi è in grado anche di trasformarsi in una vera e propria stazione meteorologica ma anche di creare una rete wifi che prende nell'arco di un chilometro quadrato. Mica come il router di casa vostra che poi è andata al piano di sopra e non prende più whatsapp. Ma forse vi interesserà sapere anche quanto costa un gioiello come questo che tutto il mondo ci invidia? E beh è impossibile da sapere proprio perché è un esemplare unico, un prototipo congeniato dai nostri vigili del fuoco dell'NBCR quindi non c'è un valore commerciale. Ora però vi devo chiedere se vi è piaciuta questa nuova puntata super speciale dei mezzi speciali. Sapevate che i nostri vigili del fuoco hanno tutte queste competenze così profonde e disparate? Se vi va raccontatemi tutto nei commenti qui sotto io come sempre cerco di rispondere a tutti. Ciao da Matteo Valenti ci vediamo alla prossima puntata su automoto.it. Io vado a fare un po' di analisi. Grazie a tutti.